Sono più di 5.000 gli immobili di proprietà dello Stato trasferiti agli enti locali grazie al federalismo demaniale, lo strumento che permette a comuni, regioni e città metropolitane di acquisire a titolo gratuito beni presenti sul proprio territorio, valorizzandoli con progetti di recupero. Oggi sono 1.324 gli enti territoriali che hanno usufruito dell'opportunità, ampliando il proprio portafoglio immobiliare per un valore complessivo di poco superiore agli 1,83 miliardi di euro. Dei 5.000 immobili, 131 sono beni di interesse storico-artistico, il cui trasferimento è stato reso possibile in virtù del federalismo demaniale culturale, istituito nel 2010 per garantire la tutela di immobili di particolare pregio e valore, che vengono così restituite alla comunità. In questo caso la concessione avviene solo dopo la stipula di un accordo che vede coinvolto oltre al demanio il Ministero delle Attività e dei beni culturali, che monitora anche in seguito l'effettiva fruizione e valorizzazione del bene. Ben 11 dei 131 beni storici italiani trasferiti dal demanio si trovano in Piemonte. Uno di questi è l'ex castello abaziale di Sant'Ambrogio di Torino, in Val Susa, risalente al XII secolo ed edificato ai piedi della Sacra di San Michele. In parte di proprietà comunale e in parte dello Stato, dopo secoli di abbandono, i ruderi della Rocca, dal 2010, diventano il fulcro di un progetto di valorizzazione del territorio, grazie al federalismo demaniale culturale all'accordo con il MIBACT tra il 2014 e il 2015, prende forma il piano dei restauri che fa dell'antica fortezza medievale una moderna struttura ricettiva da 40 posti letto sul percorso della via Francigena. Data in concessione privati che hanno provveduto a terminare i lavori di allestimento, nel 2016 ha perso le porte al pubblico. Grazie al federalismo del Magnale e al bando del Comune ho avuto l'opportunità di realizzare un sogno. Aggiudicandomi la concessione per dieci anni del castello, a settembre 2016 abbiamo inaugurato l'Omat Fair, che è un ristorante, un ostello, un albergo ai piedi della Sacra di San Michele, raggiungibile con un sentiero della via Francigena. Tra l'altro uno dei soci è mia moglie, che è di Sant'Ambrogio, nativa di Sant'Ambrogio e per lei e di conseguenza anche per me questa avventura dell'Omat Fair ha un significato particolare. Nel progetto di recupero del castello il Comune ha investito nel corso degli ultimi 15 anni 600 mila euro, restituendo un bene pubblico alla collettività e rilanciando il territorio di Sant'Ambrogio come accesso d'eccellenza alla Sacra di San Michele. Questo recupero del castello, grazie allo strumento del federalismo dei Magnali, sicuramente è un esempio di rigenerazione urbana molto importante in funzione anche per Sant'Ambrogio della Sacra, da poco candidata al patrimonio UNESCO. Quindi qui siamo alla base di quello che è proprio il nostro futuro progetto di sviluppo turistico di Sant'Ambrogio legato alla Sacra e ad altre attività, alla ciclostrada Valle Susa, alla via Francigena, all'ex maglificio Bosio e alla presenza della stazione ferroviaria che in 25 minuti ci porta direttamente a Torino.